Ciao, questo è un nuovo video che solito rifaccio sui film che riesco ad andarmi a ricopiare nel guardare che mi sono visto Nina dei Lupi che è un film dell'anno scorso e del 2023 che visto che adesso lo hanno messo sulle solite piattaforme sono riuscito ad andarmelo a ricopiare nel guardarlo che la sua data d'uscita al cinema è stata giovedì 31 agosto del 2023 che è un film italiano che come genere drammatico che dura quasi un'ora e 45 quasi di film, un'ora e 43 più o meno di film quei 104 minuti che a chi magari piace questi film drammatici sicuramente è un film magari anche se italiano ho visto che è fatto bene che è uno magari che come si dice che lo si può anche recuperare magari nel guardarlo che la parte del regista e la parte della regia di questo film è di Antonio Pisu che la trama è stato proprio preso dal romanzo di questo Alessandro Bertante che è che terrà che più che altro magari la trama più che altro magari che a causa magari di una tempesta solaa e si interrompe il funzionamento di ogni apparecchio elettronico Si spengono gli smartphone, tutte le luci e anche le auto di colpo che non camminano più, che proprio nello stesso giorno viene trovata sulla montagna di un paese, si è spreduto una neonata che vive col padre, che le rivolge a malapena la parola, mentre è allegatissima alla madre che è morta poco dopo, che la sua comunità è un mondo a parte, che rispetto magari al resto del mondo che sembra ormai distrutto, che proprio Nina non interagisce con i suoi coetanei e non va nemmeno a scuola, è considerata come una strega, che l'unico legame forte e autentico che ha è quello con la natura, che un giorno arriva in paese uno sconosciuto, fosco, che viene accolto con generosità dagli abitanti del bosco, che in realtà l'uomo è a capo di una banda di predatori che arriva sul posto, seminando morte e terrore, che Nina per sopravvivere deve raggiungere la montagna e imparare a proprio convivere con i lupi, che da lì potrà organizzarsi a fare affidamento sui suoi poteri per affrontare il nemico, che più che altro la trama in sé del film era questo qua, che essendoci magari questi cani durante i film, l'ho voluto andarmelo a guardare, che più che altro magari con questa improvvisa tempesta solare rende inutilizzabile qualsiasi apparecattura elettronica in tutto il pianeta, che lo stesso giorno questa neonata viene ritrovata nei pressi proprio di un piccolo paesino che hanno speduto tra le montagne che viene chiamata proprio Nina, che altrimenti è questa qua, che è la casa di produzione, questa Genoma Fims, ed è stata sempre la stessa distribuita qua in Italia, che come al solito vi lascio sempre sotto in descrizione tutte le informazioni magari sul film, tra il cast degli attori e il videotrail assieme alla trama e se riesco magari a trovare qualche altra informazione, magari più, trovate magari tutto sotto in descrizione, che anche se come film italiano erano tutti attori, come si dice nuovi, che da parte mia non ne conoscevo nemmeno uno, però vi lascio tutto il cast, come faccio di solito sotto in descrizione, che più che altro magari la trama in sé è questa qua, che oltre a essere magari drammatico può risultare magari un po' fantasy thriller come film, che più che altro magari, come vi stavo dicendo prima, che dopo questa magari improvvisa tempesta solare, che rende magari qualsiasi apparecchio elettronico non funzionante, che trovano magari questa neonata, che la chiamano Nina, che dopo il catastrofico e misterioso evento che tutti magari chiamavano più che altro magari Shagua, che più che altro magari c'è proprio questa ragazza Nina come protagonista proprio del film, e niente che più che altro magari la trama era questa qua, che vi ho detto, che come stavo dicendo prima, magari vi lascio tutto sotto in, tutte le informazioni tutte sotto in descrizione, e niente che quello che potremmo dire su questo film, l'ho già detto a Massimo, ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video, che porto sul mio canale, che lascio tutte le informazioni sul film sotto in descrizione, e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao! grazie